Come ho sempre detto il mio studio è un pronto soccorso. Qui arrivano le storie più incredibili, arrivano più che clienti i pazienti politraumatizzati, che mi raccontano la loro vita, le loro speranze per un matrimonio che sta finendo, ma anche un'unione di convivenza. La prima cosa che io dico ai miei assistiti che chiamo pazienti è evitare nella maniera più assoluta di sparlare dell'altro genitore, perché è una cosa veramente inaccettabile. Vedete, quando un figlio sente parlare male del proprio padre o della propria madre, comincia a perdere anche la propria autostima, perché comincia a farsi due conti. Se io vengo da un padre a fare abutto o da una madre inadeguata, probabilmente almeno per i 23 cromosomi che ho preso da quella persona, bene, io sono una persona inadeguata. Invece i genitori sono l'orgoglio, devono essere l'orgoglio dei figli, anche quando sono così così. Che senso ha sparlare di un padre o di una madre? Che senso ha delegittimare un genitore, salvo ovviamente che non siano successi fatti gravi in famiglia, come violenze fisiche, psicologiche, abusi? E su questo credo che poi a quel punto sono gli stessi figli che si fanno un'idea. Ma quando c'è un contrasto, quando c'è una separazione perché non ci si ama più, che senso ha utilizzare i figli come oggetto di vendetta o di rivendicazione? Che senso ammortificare i figli parlando male del proprio genitore? Vuoi che sia padre o che sia madre? Io questa è la domanda che pongo sempre ai miei clienti. Io non accetto di difendere un cliente che si comporta così, perché un cliente che si comporta così tradirà anche me, tradirà anche i suoi amici, tradirà anche il tribunale, è una persona inaffidabile. Ma quando vengono a chiedere giustizia, quindi quello che si può offrire a queste persone ben venga. Ma ricordatevi sempre una cosa, e lo dico anche ai giovani colleghi, che un cliente brava persona non ha bisogno di essere chiamato da un avvocato, ma un cliente canaglia mette in difficoltà anche il suo avvocato, perché la controparte penserà che certi atteggiamenti e certe condotte sono state ispirate dall'avvocato stesso. Allora un consiglio a tutti i genitori, se volete veramente bene ai vostri figli, cercate di mantenere sempre vivo il rapporto con l'altro genitore, salvo casi eccezionali, perché se non fate così non siete degni di essere definiti genitori.